Ma quanto è burlone il nostro sensei che ogni anno ci rifila le solite quattro sciocchezze durante la Jump Festa. Non so se avete visto l'ultimo messaggio con cui ha annunciato questa nuova saga che arriverà su quell'isola dove quelle persone faranno quelle cose, ma ho visto gente strapparsi i capelli, immaginarsi le peggio cose, arrivare a immaginare veramente la distruzione di massa. Anch'io lo feci anni fa e poi chiaramente capì che sono solo fregnacce, sono solo fregnacce quelle che ci racconta il sensei. E allora facciamo una bella cosa insieme, andiamo all'alba, all'alba, questo che tanto l'alba ci piace in One Piece, all'alba di questi messaggi di Oda alla Jump Festa e andiamo nel lontano 2015. E così capiamo effettivamente che cosa c'è a monte di tutti questi discorsi, queste stupidate che lui ci racconta annualmente, e almeno capiamo perché poi arriva a raccontarci sempre queste mezze verità che poi alla fine si rivelano sempre fregnacce. Via! Qui siamo nel 2015, Jump Festa del 2016. Non vi sto a raccontare tutto quanto, alla fine poi usa sempre i tre quarti del messaggio per fare un po' un recappone di quello che è successo durante l'anno. Qui c'era il film Gold e tutto il resto. Vi leggo solo la parte dedicata in manga, così almeno ci focalizziamo solo sulle cose che interessano a noi. E qua ci dice E riguardo al manga originale, ultimamente mi viene chiesto dai lettori Quando apparirà Sanji? Anche l'attore che dà la voce a Sanji, Irata, mi chiede Quando entrerò in scena? Non preoccupatevi, il prossimo anno sarà l'anno di Sanji. Sta per arrivare il momento di approfondire il segreto dietro alla sua nascita. Sarà un anno in cui i membri che hanno preso una pausa durante Dressrosa si metteranno in luce. Qua era giacchino più desideroso di raccontarci cose. Non doveva nascondere, celare. Quindi diceva, sì, l'anno prossimo sarà l'anno di Sanji. L'ha detto, eh? L'anno di Sanji. L'anno di Zoro non l'ha mai detto, invece. E quindi cominciamo a capire. Poi va avanti. Qui siamo alla Jump Festa del 2017. E che cosa ci racconta il nostro sensei? Oltre ai suoi colti convenevoli, vi sta divertendo, Cazzate Cazzatine. Dice bene, all'incirca, nello stesso periodo dell'anno scorso, l'apparizione di Sanji era limitata. E sia i fan che i Rata-san chiedevano di vederlo di più. Quest'anno, invece, è apparso parecchio. E quanto pare si sentono voci che dicono basta. Che scatole. È difficile, è difficile accontentare tutto, dice Oda. Ma comprendo i vostri sentimenti. Tuttavia, credete nei pirati di cappello di paglia. Questo è il momento cruciale di un manga shonen. L'anno prossimo prevediamo sviluppi emozionanti che vanno da All Cake Island all'Everie fino al paese di Wano. Quindi annunciava la fine, ma Wano non era ancora iniziata. Perché Wano Kuni cominciò non uno, ma due anni dopo quel messaggio. Il messaggio di prima era nel dicembre del 2016. Il paese di Wano è cominciato nel 2018. Me lo ricordo perché fu l'anno in cui mi sposai. E proprio a fine estate, era settembre ovviamente, e Wano era appena cominciata. Quindi cominciamo a capire come Oda comincia a allungare. Ok, allora. 2018, siamo nel dicembre 2017. Alla Jump Festa del 2018 e Oda ci dice Bene, il prossimo anno finalmente andremo nel paese di Wano. Andiamo, wow, evviva, applausi. Vi ricordo di nuovo, cominciò a fine 2018. Forse alcuni di voi informati diranno Ehi, ma hai detto la stessa cosa l'anno scorso? L'ho detto, sì. Pensavo che ci saremmo riusciti ad andarci. Ma ora aggiungo alcune nuove informazioni E qua, qua entra a piedi pari Una delle più grandi stronzate Che si sono mai dette su One Piece Che hanno fatto il giro del mondo E ancora sono in giro Entro il prossimo anno Vi presenterò Una leggenda Finora rimasta In sordina La famosa leggenda dormiente Nel mondo di One Piece Questa diventerà il più grande nemico Che Luffy e compagni abbiano mai affrontato E qualcuno Che un tempo Ha avuto qualche legame Con Barba Bianca Ah! Ho già parlato troppo Se vi ricordate Quando Kaido apparve nel capitolo 795 Citava Newgate Il più grande nemico Che Luffy e compagni abbiano mai affrontato E Kaido Una leggenda Che finora non ha fatto un cazzo E ha dormito Senso metaforico Quindi parlava di Kaido Vi introdurrò finalmente Kaido E dice La guerra per la supremazia di Marineford Riuscite a crederci Che in confronto alla guerra Che sarebbe arrivata qui a Wano Sembrerà un gioco da ragazzi? E quindi qua ci introdusse La famosa leggenda dormiente Che non era nient'altro che Kaido Solo che ancora c'è gente Che si chiede Quando arriverà la leggenda dormiente Arriverà quando vi svegliate voi Proseguiamo Siamo nel 2019 Quindi Jumpfest Nel dicembre 2018 Quindi Wano è appena 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 cominciata D'accordo? E ci dice Ah Nel 2019 Faremo un film Il titolo è Stampede Fantastico Non vedo l'ora di vederlo Il contenuto Però non ve lo posso ancora dire Ma lasciatemi dire questo È un film che possiamo fare Solo perché è il ventesimo anniversario Se non fosse il ventesimo anniversario Non permetterei mai Di fare un film del genere Praticamente ci ha detto A me fa cagare È un puttanaio di roba La gente si picchia Senza nessun tipo di senso E quindi se non fosse per il Per il ventesimo anniversario Di One Piece Sti cazzi Cioè chi se ne frega Non l'avrei mai fatto Una merda del genere Invece purtroppo poi Stampede è arrivato Ce lo siamo visti Ci siamo divertiti E pazienza Pazienza Questo è Bene Ma cosa ci dice del manga? Ora finalmente proseguiremo Al cuore Della grande storia Di Kozuki Oden Nel paese di Wano E Vi farò vedere anche Un incredibile incidente Che avverrà dietro Le quinte del Reverie Vi ha visto qualcosa? No! Abbiamo appena toccato la superficie In realtà poi Dell'incidente del Reverie Mi ha parlato quest'anno Quindi direi 4-5 anni dopo Capiamo Proseguiamo Jan Festa del 2020 Quindi dicembre 2019 Ora Per quanto riguarda Il manga Non c'è tempo Per riposare I freni Sono già rotti Vi state divertendo Con l'avventura Di Oden Sto disegnando Mentre mi chiedo Fino a che punto Posso nascondere le cose Se non sto attento Potrei finire Per disegnare Tutto One Piece Tuttavia Una volta che questa Retrospettiva Si concluderà Il significato Dell'avventura Di Luffy E il motivo Per cui combatte Diventeranno Ancora più chiari Anche se a Luffy Non importa nulla Di queste cose La saga di Wano Sta per entrare Finalmente Nella fase decisiva Vi ricordo che Wano È finita quest'anno Sono venuto A Wano Proprio per disegnare Questa parte E nel frattempo Nel retroscena Ci sono sviluppi Riguardanti Sabo Vivi Ancoc Ah sì La storia Procede Verso la sua Conclusione 2019 2021 Quindi dicembre 2020 Giustamente Fa riferimenti Al covid Si chiede Se tutti stiano bene Elogia Demon Slayer Blablabla Siamo finalmente Al capitolo 1000 E vive 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 E poi Per quanto riguarda Il contenuto del manga Come nuova informazione Forse quel personaggio Inizierà a muoversi L'uomo Con i capelli rossi La storia Sta ancora avanzando Verso la fine In maniera Molto veloce 2020 Shanks Ha fatto la mossa Nel 2023 Dicendo A Beckman Andiamo A berci L'One Piece Perché chiaramente È il sake Ora l'anno scorso Comunque Due anni dopo Due o tre anni dopo Bene 2022 Jump Festa Di dicembre 2021 Solite cazzate Finalmente Annunciano il live action E poi ci sarà il film Reddo L'anno prossimo Chi è quella ragazza Uta Blablabla E si incontrerà con Luffy Cazzate cazzate E poi Per quanto riguarda La storia principale Sono ancora sorpreso Che non sia ancora finito Il paese di Wano Quindi lui si stupi Non me l'aspettavo Che siamo ancora qua Però dai Focalizzatevi su Luffy Il protagonista Spero di riuscire A disegnarlo bene E poi Ho sempre desiderato Disegnare Quella scena Finale Del paese di Wano Qual è Io ancora Non l'ho capito Se è Momonosuke Che è adulto O se è la bandiera Che poi non vediamo Messa sul tetto Del palazzo O se è Zoro Che va Alla tomba di Ryuma Comunque Lui era desideroso Di disegnarla E l'ha disegnata Jump Festa Dell'anno scorso Dicembre 2022 Quindi Jump Festa 2023 Cazzate Finalmente Viva Red Viva Uta È apparsa È 25 anni Del manga Sono contento L'anno prossimo Uscirà il gioco One Piece Odyssey Manga E l'anno prossimo La storia di One Piece Avrà un evento Inaspettato Uno scontro Tra due personaggi Se dovessi dare un titolo Sarebbe La grande Barahonda Che poi è diventato La Royal Rumble Per quanto riguarda Poi il mondo Del fandom Spero che nessuno muoia Dico sul serio Capiamo Probabilmente Era Gold Valley I due personaggi Sono Roger E Xebec È l'unica Barahonda Che ho visto Boh E finalmente Siamo al 2024 Quindi La Jump Festa 2023 Di quest'anno Di questo dicembre Cazzate Solite Rimuovo Red Che finalmente È tornato al cinema Con il bis Delle proiezioni E viva e viva Grande serie live action Super successo Tutti felici Tutti quanti Va bene E poi Chiudiamo Con la storia Fregnaccia Allora Devo lavorare sodo Sul manga Perché quest'anno Molte persone Hanno affrontato Varie sfide È un mondo Davvero spaventoso Se Luffy Se Luffy e compagni Dovessero riuscire A lasciare Gad in sicurezza Andranno Su quell'isola Ho considerato Anche una Rotta alternativa Dice Ma Luffy Non può essere Fermato Vero Quindi Dio Chissà che rotta Aveva considerato Forse Luffy Doveva andare A Daccino Su O forse Doveva andare A Fancù E chiude Se è così Quindi se Vanno Su quell'isola Diventerà Una lotta Per quello Tra virgolette Quella cosa lì No Sta per arrivare Dice Finalmente E poi La battaglia Tra quei due Potrebbe avere Un risultato Sorprendente Chi sono quei due Lascio voi L'immaginazione Lascio voi Lascio voi L'immaginario Potrebbe essere Chiunque Potrebbe essere Teach Potrebbe essere Shanks Potrebbe essere Luffy Vaggy Potrebbe essere Midos Potrebbe essere Di nuovo God Valley Potrebbe essere Addirittura Sengoku Che scende in campo E combatte contro Garpa Shoji Cioè Non lo so In ogni caso È un mondo di fregnacce Quello che ci Ci fa Trangugiare Oda Ogni anno La Jamfesta E noi Ci lasciamo Prendere Dall'entusiasmo Dalle sue parole Ma a conti fatti Non ci ha mai detto niente Siamo noi Che ci immaginiamo Cose Quindi va bene Immaginiamocene E alimentiamo Perché poi Noi viviamo Dipe E questa è la verità È inutile Che ci raccontiamo Le balle Però ecco Fly down Fly down Perché ovviamente Con lui È tutto un L'uomo L'uomo che vive Dipe È così È così Fa parte del suo Del suo gioco E noi giochiamo con lui Ovviamente Alle sue regole Però ecco L'importante è che voi sappiate Che ha detto Come sempre Una marea di stronzettine Così per Alla fine Alla fine sicuramente Non succederà nulla Saremo ancora A Eged L'anno prossimo A dicembre Saremo ancora lì Per capire Che cosa è successo Se Se Orso Ha ucciso Saturn O no Va bene Detto ciò Io vi saluto Spero comunque Che capiate Che c'è delle ironie Nelle mie parole Chiaramente Poi Gioco con voi Gioco con Oda Lo odio ma lo amo E quindi questo è Fate bravi Divertitemi Fatemi sapere La vostra Jamfesta Invece Che cosa immaginate Per il futuro di One Piece Andremo su quell'isola Tutti a prenderci Quella cosa Quei due Combatteranno Fatemi sapere Ciao